Valorizzare le strade storiche di montagna mantenendoli in condizioni ottimali per favorire così lo sviluppo del turismo outdoor. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge di Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia, interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, a cui l'emendamento di Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle, ha aggiunto ambientale e paesaggistico. Con questa legge si mette a disposizione dei nostri sindaci, delle nostre province, dei nostri parchi, la possibilità di costruire un prodotto turistico che sarà unico al mondo e che vedrà delle strade, dei percorsi turistici regolamentati che partiranno dalle Alpi del Mare attraverso le valli olimpiche e arriveranno alle valli del lago. Il provvedimento, diventato legge regionale, prevede l'istituzione di un apposito catasto regionale e la realizzazione di progetti dedicati alle strade storiche di montagna che vanno dalla promozione del loro valore culturale, ambientale e turistico alla mappatura, gestione ordinaria, interventi di manutenzione, riqualificazione delle strutture ricettive o degli edifici e dei manufatti di pregio storico, promozione dei servizi turistico-sportivi legati alla loro fruizione. Sugli 11 articoli insisteva una trentina di emendamenti, presentati da maggioranza e opposizione anche per cercare la convergenza tra le varie forze politiche. La prima commissione aveva licenziato l'emendamento alla norma finanziaria 2021-2023 che stanzia per l'anno in corso un milione e mezzo a sostegno della valorizzazione delle strade di montagna di interesse turistico. Nel corso delle varie sedute consigliari, i gruppi di maggioranza hanno sostenuto la proposta necessaria per il rilancio dell'economia e dell'agricoltura nelle terre alte. E avere un progetto che mette tutte le strade di importanza storica regionale assieme può essere un vero e proprio prodotto turistico unico a livello mondiale. Le strade storiche che ha il Piemonte, le strade militari, non le hanno in nessun'altra parte d'Europa. Pur apprezzando l'iniziativa, l'opposizione ha espresso alcune critiche. Il provvedimento ha un'interessante valenza turistica e anche culturale, in particolare se pensiamo alla importanza di queste strade per le fortificazioni alpine su cui il Partito Democratico intende investire fortemente. Come partito e come minoranze abbiamo proposto dei correttivi rivolti soprattutto alla tutela ambientale.